A me ne vanno a tutto la buona Non l'avete mai 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 Cosa? E' un po' di più E' un po' di più E' un po' di più Non lo vanno a portare da qui E' un po' di più Come il boraccio ci sarà andato E' un po' di più E' un po' di più Ma ci devo essere a volerla Ma ci devo essere a volerla Come si fa le boracchie qui dopo Quella è la piazza di gomma La piazza Sto che si può scottermi prendere la piazza Come piano! E' un po' di più E' un po' di più E' un po' di più Ecco qua Ecco qua Ecco qua Ecco qua C'è un po' di più Aspetta quattro ore Ma chi ho aspettato quattro ore? Quattro Dalle sette Sì Sì Volevo vedere se ci stavi due Sì Ma guarda Come un bacciata Sì Sì Mastrucci Ma che sta registrando? Ma guardiamo un po' di più Che Eh Se ne provo Quando ci stavano andati la piazza Ha detto Quella ancora deve scendere Deve scendere dalla casa Perché la piazza è più alta Eh? Dopo due minuti Stava scendere dalle scuole Da dentro la piazza Sì Ma stavamo sempre a fare qualcosa Ma la casa è tenata in una piazza Ma si ha detto Ancora deve scendere il piazza Significa che quello là Stava addosso E' un po' di più Venti 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 Chi mi ha dato me a manciare La cacina Vamo qui di s'insieme Raa Sai quando sta ? Ma sai ci stanno ? Cina la cina se già ando sta Lei non ti dice Ma non l'ho pure nessuno La seggio sta la, la palleva quel coso con la seggio, abbraccio il tuo paccomino, sa? Che cosa? Sto coso qua! No, non giardino! Non toccare! E non giardino, il franco non si siede! Non si siede, franco! Non si siede, franco! Non si siede, franco! Non si siede, franco! Eh? Ma poi stanno a caviarlo! Eh? Questo qui ho provato il buono! Mi ha fatto la cacciata! Che cosa c'ha cacciata? Che dì? Forse, la prossima volta che veniamo qua, mettiamocci le sedie da da, seggio Metti le qui! Come ha cattolata da una roba! Metti le qui! Questo è stato diplomato Pettiamoci le sedie e le mostate! In questi casi 4 giorni amato, c'era un altro problema, non il problema del genere Guido, 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 Guido. Ma che non ci avete tempo che mi dai canti di insalata, va bene, ma se voglio parla di servire. Che cosa? Allora, facendo un dress. Come facendo? Io così, la sua ora. Ma che non ci sia un po' di mezzo. Un po' di mezzo. Perché? Provecata con un ruolo. Non è vero, sta qui la conduzione, la conduzione. Sta qui fa il cuore rosso. E' vero? Non è vero? Non ho creduto. Eee? Eh? Si può scegliere? La luce! La luce! Questa è una pezzi grande! Questa è una pezzi grande! Questa è una pezzi normale! Ma che dai buio? Tesoro! Guido! Genita! Guido! Ma che buzio sono là! Eh? Ci metti i grembiolini! Che bello anche questo grembiolino! Bello! Vedi che io stavo a casa eh! Ha registrato? Allora sta registrando? Guarda! E' bello! Guarda Lucchi Guido! Ma la ha messo tutta la canna! Quello rosso è dolce! Ma tu non sai quello che vuoi? Te lo ho detto Giorgio! Non si sa! Che è smacchata! Si! Non lo so! Oh! Ehi! Ma che bello! Ehi! Non fa l'aria Guido! Non fuggere via! Sì, se vedi cosa è questo! Ha fatto mamma Guido! Ma ti lo ha assaggiato? No! Eh, va bene! È buono! Ma non fai proprio i miei giù! Eh! Qui io... non è buono, è aspro o sissa? no, non è aspro ma com'è? sembra un po' frizzato però non è frizzato frango sentite sentite non lo so funziona la macchina, frango, sandro sentite tutto quello che dici mamma mia quello l'ho guardato mio se non lo so è costante e poi c'è a bostona tu vuoi fare mille a Guido? perci? ti lascia solo ma non lo so non lo so ma posso tutto? ma che è tipolla quella? si se mangiare il quiretti non lo fresco? non lo fresco percogliano perciò non do cos'è bene se si guarda qui veppa le soldi vetti che c'è anche la macchina perché fa mangiare non è giusto beh sì e Eccolo! 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 A me la ciaccia, mamma! Sì! Dai, ciaccia! Paolo! Questo è! Ecco! Ecco, zia, guarda, un pezzetto così! No! E non zita! 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 E qui, la vedo! E qui! Ma allora, che verrà se il padre non mangiare tutto quanto io, no? Paolo, tuo padre mi ha invitato 8 giorni a rinno! E baci! Eccolo! 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 Sì, sono quelli del resto, oh, quanti poi? No, 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 pure il vino in tavola, eh? Perché io, da sorella? Vici, ma... Vai ma che voi zi... Non, non ci sta facendo io, lì si sta facendo l'amore, la domenica... E' un'altra cosa, non è? 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 Dice, se non è oggi la, diciamo, domini, non c'è ne viazi? E' un'altra cosa, non è? Ma... Hai visto? Questo è il tuo, sì? Questo è il tuo, l'altro. Hai visto? Ehi, guarda la silenzio! Ehi! Hai vado? Poi sono stannati, perché? No, non è fatelo, no? Ah, dopo tagliamo allora? Claudio! Claudio... Qual è... Ah, proprio io, un bel secolo qua, adesso lo metto tutto là. Ah, beh, perché è nella metà, o no? Ah Paolo eh? No, è tanto mio Ma tu salta eh? Ecco qui Tu hai dei tesoro Che? Un altro pezzetto salta? Se no poi va tutta ai cani Allora che diciamo Signora! E io mi sento con me un metro di pesce di due cose Sto pagando? Signora! Impostato Franca! Franca sta a me sta a dormire qui Simone io mangiamo la porca E a me non mi va niente La mia è duro Ma è che sei a me sta a dormire? A me sta a dormire A me sta a dormire Senora! Bebe un pezzo di quattro perché non mangia tutto Io voglio due patate di quattro Ci hai patato Io voglio franze e franze E non mi sta a dormire Vai, vai Si Vai, vai Cosa? Che vuoi? Cosa 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 vuoi? Sì questa signora in Brasile si chiamava pescato in questo film perché si arracciono fuori no proprio a rotoglio dai c'è la pappagallo? non c'è la fatta lei non poteva passare vicino se il pappagallo non poteva passare vicino pescato 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 hai capito? mi scatto molto no li conosceva c'è una semica però ci stai? e a te? e chi ha? ravioli? ravioli questo è pulito poi certe volte ha dato una patta c'è un po' di formaggio non c'è non c'è un po' di formaggio non c'è una aspettate che tu non mi possa guarda un po' di formaggio guarda un po' di formaggio guarda un po' di formaggio le cose c'è solo un po' di formaggio noi ce n'avevamo uno lo portavamo da mato cross passare la divisa lì la frontiera ha fatto il grosso in brasilio perchè c'è da portare la frontiera? ogni strada sono 22 strada in brasilio ci hanno un po' di che ti credi? in brasilio ma io che sto facendo una questione di grandezza ogni strada è come sei tu qui ma devi andare a Napoli a Galeta c'è stata la montiera perchè ti dice no ma succede una cosa che ma lì sono 22 stati ogni strada vedi ma sono 20 regioni sono 20 regioni a lì solo il suo regalo c'è un appinto 20 regioni la città è un massimo non capisco questa faccenda pure la media ci stanno 50 stati e ogni stati che c'è la frontiera no? 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 pure con questo c'è strano delle leggi che sono diverse io andiamo a me che c'è 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 e se riprendeva il mio che c'è dove va? è finita è il governo non poterci ne sorge stato è il governo ha 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 il governo che manda un po' cambia le leggi chi vuole parlare? la legge cambia di legge tu sei il presidente governatore la legge dello Stato è tuo come fare a te? il forzatore ti ha dato l'esportazione magari e da quello Stato mi ha mano fuori da quello Stato troppo buono tu puoi portare dal Marco Cross dall'Amazzone puoi portare a 30 kg e se non è sono vecchie sono vecchie quando arriva la tescura? sono stati a San Paolo e ti domando 50 persone qui siamo 5 persone quanta pesce portate? perché qui ci sono 150 kg e più 5 c'è l'orto di greco portiamo più o meno 150 kg se loro non lo stavano la tua e tutti va bene si sono appesano 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 ecco si muove capito? io mi sento il mio trucco non so se è un trucco non so quelle sono già brutte col trucco ci vuole andare via quella di vino quella di vino quella di vino quella di vino è quella di primo termine era bello Fran perchè non c'è stato e poi mi faccio vedere la professione è passata Sandro smetti fine primo termine questo è di Dragola no non lo so ce l'hanno regalato era figlio bene Paolo ogni stato i campi da legge capito? va bene c'è l'acqua c'è l'acqua c'è l'acqua c'è l'acqua c'è l'acqua c'è l'acqua c'è la grandezza veramente in comunque una persona può fare e tu 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 ci hanno messo due togliettori ti metto grosse c'è l'unità guarda scusa la 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 scusa affondi venga la scusa io sono tutta la scusa da San Paolo a Manaus affondi scusa domani quando ce ne stanno? non pico e pico sa quante ore sopra alla zona la zona quattro ore maniando una gara maniando sopra boschi fiume quattro ore e mezzo c'è il secondo affranco non cuoco il secondo 부o c'è il secondo roma c'è il secondo quattro ore allora non c'è il secondo 100-140 tonne dove andai? 3-4 io ti ho capito per arrivare da dove stai non sa? per arrivare il piatto che va di là? 2-2 allora per me in fondo ora qualsiasi cosa vado a far mangi 10 minuti 10 minuti ma qua sta già una bella giornata veramente Sandra ma quella macchina questa figlia la cucina e basta e sta girando da lì ma dove sta il buco? mi sono andato dritto dritto al senorato ma è proprio in scopera è il più vecchio è il più vecchio a te la prendi come non c'è altro che i capelli diacchi al senorato ha il più vecchio ha il più vecchio oppa se c'è 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 solo salvia e qua non vuoi scommettare qua è girabile però è il più vecchio è il più vecchio ah ci sta pure quello di Ennio abbiamo fatto il Pasquetta da Ennio è sta pure quello di Ennio ma gira tu non lo vedi ma quello gira e gira se lo dici sennò si pure sono più vecchio non è un saccaccio a me abbassi tu un po' no ma l'unica cosa tu sai che cos'è? metto a fuoco il senorato perchè ci avessi lo dichiaro sono quelli sennò vende tutti quanti non ci lascia nessuno tu dici un po' io so prima di tutto se ti agire io penso che la cosa è un modo di spazio ma tu un modo di spazio non puoi stare sopra questo quarto qua e fa così fa più ad un quadro ma si vede? ma si vede? sta girando lì vediamo subito vediamo la televisione il foco stava qua la capoccia non ha staccato il guido sta qua come fa questo foco quando la fa così devi fare così quella è la telecamera speciale si muove prova non è che quello si muove si muove si mette quello che sta a Ennio ci vuoi bene qua ragazzi quella dice certe cose quella dice c'era Gix quella lì non c'è la pagata da un pacco di pesce perché partiamo in questo ma non si dite no? è vero dai puro sopparabili quando la persona sta lontano il zoom rimane più rosso che la macchina quello secondo me li prende tutto spogliati la telecamera speciale venuta non credo nulla voci rossi potresti fare una stampa a me per lasciare la statua qui a te facci tutti i creditori un mezzo gusto un mezzo gusto in vero in vero in vero ti ho detto in vero oggi io e Paoletta abbiamo fatto un intervento chirurgico voi avete la minima idea che intervento? e noi ci stavamo e noi ci stavamo preoccupando come dovevamo disbiallare per un tagliaio un tagliaio cose anche io l'avete fatto quando siamo arrivati qua alla meta la donna la donna sta e lo sembra ma quella sua dovuta che avete fatto perché ce l'ha parata ma la metto vicino allora io sa fatto e lo spiego ma va va Sì, no, 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 no. Sì, no, no, no. Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. e abbiamo finito di mangiare solo perché spendo io e io io li posso dare a giugno di uno insomma